Ragazzi bentornati all'angolo dell'unboxing, puntata speciale, un gioco che ho preso proprio oggi, che è uscito proprio oggi, Control della Remedy Questo è un gioco molto particolare che è stato annunciato due anni fa alle 3 di Los Angeles, alla fiera dei videogiochi di Los Angeles Io già sin dal primo trailer mi sono detto questo sarà un capolavoro, e infatti oggi è uscito e così è, questo ragazzi è un capolavoro Io di solito, lo sapete, non compro mai giochi a prezzo pieno, non compro mai giochi al day one, compro sempre giochi in offerta, anche in un video recente Ho fatto la sparata però vera, ho detto che normalmente con i soldi con cui si compra un gioco, io di solito ne compro circa 10 di giochi Perché li prendo sempre tutti in offerta, invece stavolta ho voluto comprarlo a prezzo pieno, Control, perché ho voluto premiare Remedy Ho voluto premiare il coraggio di 505 Games, questo qua non è un video sponsorizzato, ho dovuto sganciare davvero i soldoni per comprare sto gioco E sono tanti soldi, però l'ho fatto molto volentieri, perché Control è un gioco che a quanto ho visto è un gioco veramente straordinario Sin dal primo trailer l'ho capito, dall'architettura degli ambienti, dal gameplay un po' particolare Si ricordate in passato c'era un vecchio gioco della Midway, prima che fallisse, che si chiamava PsyOps The Mindgate Conspiracy Gioco per PlayStation 2 Xbox, della prima Xbox, che era veramente un gran gioco In cui si faceva un soldato che aveva dei poteri psichici e poteva combattere contro i suoi nemici Che ne so, lanciando gli oggetti addosso, sollevandoli in aria e scaraventandoli da sotto E qua Control riprende un po' quel concept lì, ma lo fa in una maniera molto più bella, molto più avanzata Molto più ricercata, anche da un punto di vista artistico, narrativo e tutto quanto In pratica Control consiste nel riprendere il controllo di una base segreta Una base segreta, una roba tipo Illuminati, sta roba qua, dove si fanno esperimenti psichici eccetera La protagonista ha questi poteri psichici con cui può sconfiggere i suoi avversari C'è uno scontro al fuoco rallentatore, poteri di levitazioni, di telecinesi, tutte queste cose qua Una figata ragazzi, questo è veramente un capolavoro Ed io stamattina quando sono andato al negozio a prenderlo Mi è dispiaciuto che il commesso mi ha detto che questo gioco è stato prenotato È stato ricercato da pochissime persone Tipo c'erano solo due prenotazioni su sto gioco Io non l'ho preordinato, perché preorde non li faccio mai Però c'erano solo due copie preordinate e due copie non preordinate Di cui una è questa Quindi mi fa capire che il gioco è stato poco capito, poco distribuito Ma questo è un gioco che veramente è un capolavoro E se ci tenete ai videogiochi, se siete veramente appassionati ai videogiochi Dovete comprarlo Io questo qui è una delle poche volte che ho comprato un gioco al day one L'unica altra volta che ho comprato un gioco al day one è stato con The Last Guardian Che è anche quello, non è stato un capolavoro quel gioco lì Ma ha voluto sostenere la visione di quel gioco lì Però in questo caso Remedy, uscita dalla Microsoft È andata a fare questo gioco molto più intimo, molto più personale Molto più coeso, molto più riuscito secondo me Anche se lo devo ancora giocare, già si capisce che gioco è E la 505 Games ha avuto il coraggio Che è un'azienda milanese, è un publisher italiano Quindi attenzione, ha avuto il coraggio di sostenere Remedy, di pubblicare il gioco di Remedy Quando, diciamo tra virgolette, nessuno gli dava più fiducia Dopo che con il mezzo flop di Quantum Break erano usciti da Microsoft Ma Remedy deve avere fiducia Perché Remedy è la casa che ci ha dato capolavori come Max Payne Come Alan Wake, che io tra l'altro c'ho anche la versione quella con il librone, con il tomo Forse l'avete anche vista di sfuggire in un video particolare Che ho fatto la parodia quella della Mystery Box E però, insomma, Remedy merita la fiducia E merita veramente che voi questo gioco lo acquistate al più presto possibile Possibilmente a prezzo pieno Per sostenerla Perché infatti solo acquistando un gioco al day one Sostenete veramente una software house E spendete un sacco di soldi Sì, ma in questo caso dovete farlo Perché vale la pena Ragazzi, non comprate le cazzate tipo FIFA Tipo COD Se stronzate qua Non buttate i soldi nei contenuti aggiuntivi di Fortnite Non comprate se stronzate qua Non sostenete i giochi di merda Sostenete i giochi veri, i giochi belli Come Control della Remedy Ragazzi, andiamo a scartarlo Andiamo ad unboxarlo Ok, insieme a voi lo vado ad unboxare Poi me lo vado a giocare per conto mio Se volete porterò anche la serie di questo gioco Però vorrei gustarmelo per conto mio Perché è veramente un gioco questo qui Che meriterà sicuramente E già sono uscite le prime recensioni E mi danno ragione Quindi ok Poi allora, qui cosa c'è? Cos'è questo? Questo Ci sono tre altri giochi della 505 Distribuiti dalla 505 penso Uno Ball State Ridge of the Night Che è diciamo il nuovo metroidvania Ok, di Garashi Poi c'è Indivisible Che sta per uscire Finalmente dopo tanto tempo Io a breve farò anche un video Dove faccio il gameplay di un clone di Indivisible Che poi somiglia anche a un altro gioco famoso Che poi lo dirò nel titolo Comunque va bene Poi Journey to the Savage Planet Anche questo dovrà uscire Ok Ok, qua non c'è nient'altro Poi abbiamo un codice voucher Che non ve lo faccio vedere Perché ci sono dei contenuti aggiuntivi Ok, che perlomeno mi interessano molto Però sono Vediamo un po' cosa c'è di aggiuntivo C'è Un'arma aggiuntiva Di servizio rara Poi Una mod giocatore rara Una muta siderale Il tema Per PS4 dell'esploratore Un tema Cava della roccia scura Allora io Di solito Non voglio cominciare i giochi Con i contenuti aggiuntivi Perché il gioco va giocato Come è stato pensato Questi sono contenuti aggiuntivi Che forse Ti danno un vantaggio nel gioco Io non li voglio usare Come già ho detto Nell'unboxing Fatto tempo fa Di Little Nightmares Però non l'ho mai pubblicato Quell'unboxing Magari lo pubblicherò In occasione dell'uscita del seguito Perché sa pure che usci il seguito E niente ragazzi Questo è Control Io vi suggerisco Di comprarlo Questo gioco Certo È una spesa non indifferente Ma vi suggerisco Di comprarlo Perché questo qui È veramente un gran gioco Un capolavoro Io l'ho capito Due anni fa Quando ho visto il primo trailer Già dall'architettura Dalle meccaniche di gameplay E le recensioni Che stanno uscendo adesso Mi stanno dando ragione Quindi vi consiglio Di comprarlo Io me lo gioco stasera E se volete Ve lo porto anche Se me lo chiedete Ve lo porto anche Sul canale Per questa volta è tutto Ragazzi Mi raccomando Sostenete i giochi belli Sostenete Gli sviluppatori Che meritano Non comprate giochi di merda Compratevi I giochi veramente belli Come questo Controllo Per questa volta è tutto Ciao ragazzi Alla prossima Ciao ragazzi